Un luogo straordinario per una installazione che lascia a bocca aperta. All'interno dell'archivio di Stato dell'ex Convento della Gancia di Palermo, nell'ambito delle iniziative legate a Manifesta, il duo artistico milanese dei Masbedo, composto da Nicolò Massazza e Jacopo Bedogni, presenta la videoinstallazione Protocol numero 90-6. Tra i faldoni ultrasecolari impolverati, un pupo siciliano animato da Mimmo Cuticchio. Si muove su un palco video, collocato in alto a mo' di un'icona. L'installazione, allestita in questo palazzo storico ormai abbandonato, si ispira alle vicissitudine umane e professionali del regista Vittorio De Seta. Gli artisti hanno scoperto un faldone molto particolare, datato 1956, che contiene numerose pratiche e denunce imputate ad artisti, registi, scrittori e giornalisti. Questa carta è divenuta per i Masbedo il simbolo della loro videoinstallazione. Migliaia e migliaia di documenti non catalogati che il tempo ha trasformato in materia stratificata. Fossili di carta, polvere e inchiostro rattrappito. Nicolò Massazza. Il pubblico si trova in questo mare infinito di statico, vecchio, pietrificato, di fronte a un'immagine di questo artista nella sua solitudine, che cerca in qualche modo di parlarsi, di parlarti e di liberarti. Jacopo Bedogni. Scegliere un luogo come questo e fare un lavoro come questo sulla percezione della memoria, sull'importanza della memoria storica, nel tenere una memoria degli eventi, nel tenere una memoria di quello che è accaduto per dargli un valore oggi contemporaneo, è sicuramente una delle basi, una delle colonne del nostro lavoro. Grazie.